Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura la cronaca perché c'è stato un caso di meningite batterica nell'Aretino, lo ha reso noto la ASL Toscana Sud-Est. Ad aver contratto la malattia, un giovane valdarnese. Vediamo il servizio. Questo ragazzo aveva febbre e cefalea. È stata fatta la diagnosi e è stato trasferito quindi nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato. È adesso in condizioni stabili, quindi penso sia fuori pericolo. È un 19enne valdarnese, il giovane ricoverato al San Donato a cui è stata diagnosticata la meningite, presumibilmente di origine batterica, non è stato ancora possibile accertare il ceppo. Era stato sottoposto ad una terapia antibiotica prima di poter fare il prelievo del liquor, pertanto le indagini di laboratorio sono state in qualche modo ostacolate da questa terapia, che sicuramente ha fatto bene al ragazzo, però ha impedito di giungere per il momento a una diagnosi di certezza. Immediato l'avvio dell'indagine epidemiologica per risalire ai contatti che dovranno sottoporsi a profilassi antibiotica. Deve essere iniziata prima possibile, preferibilmente entro le 48 ore dal contatto, ma comunque sia anche nei giorni successivi. Circa un centinaio i contatti stretti individuati, il ragazzo frequenta l'Isis Valdarno. Si intende sicuramente i conviventi che sono le persone più a rischio, i partner ovviamente e i compagni di scuola del ragazzo, persone che comunque abbiano avuto contatto con le secrezioni, la saliva di questo ragazzo, quindi anche sicuramente gli operatori sanitari che hanno prestato le cure e chiunque abbia condiviso per lungo tempo, almeno 8 ore, un ambiente chiuso. L'indagine ha permesso anche di risalire ai luoghi frequentati dal ragazzo nei giorni precedenti all'esordio dei sintomi, la discoteca Nirvana di Terra Nuova Bracciolini nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo ed una palestra del Valdarno. In questo caso i frequentatori sono già stati contattati dall'Asla. Per un periodo di almeno 10 giorni dal contatto con la persona, chiunque ne è venuto a contatto deve stare attento al proprio stato di salute, dovessero insorgere sintomi sospetti, quali febbre, cefalea, nausea, è importante che la persona si rivolga al proprio medico. L'Asla invita infine contatti stretti non ancora vaccinati, oltre alla profilassi, a sottoporsi alla vaccinazione. Il ragazzo era vaccinato sia per il meningococco B che per il meningococco C, non sappiamo però se è una meningite meningococcica, perché ci sono anche altre forme batteriche di meningite. E si era spacciata per un funzionario delle poste, aveva convinto la malcapitata a spostare 11 mila euro in un nuovo conto, ma si trattava di una truffa per la quale è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Mercatale di Cortona, protagonista una 53enne di origini pugliesi già nota alle forze dell'ordine. Quest'ultima infatti attraverso un raggiro articolato aveva contrattato una giovane donna residente nella provincia di Perugia e l'aveva indotta a versare fraudolentemente la somma sul proprio conto corrente. La malcapitata, vistasi truffata, ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Grazie ad una complessa attività investigativa, i carabinieri cortonesi sono riusciti a scovare la responsabile e a denunciarla con l'ipotesi di reato per frode informatica. E adesso spostiamoci a Pieve Santo Stefano dove c'è stato un grave atto di vandalismo la notte scorsa e nell'istituto Fanfani Camaiti alcuni ignoti si sono introdotti all'interno dell'istituto e hanno devastato aule e strumenti informatici. Vediamo il servizio. Purtroppo sì, una volta avuto accesso ai locali scolastici abbiamo potuto constatare che l'ambiente era stato rovinato. era rovinato soprattutto in termini di aule. Sono state danneggiate tutte le attrezzature e apparecchiature elettriche ed elettroniche. Parliamo quindi di computer da aula, pc da aula oppure monitorstatch, lim, proiettori, fotocopiatrici, tutto ciò che era possibile rovinare. Atto vandalico all'istituto omnicomprensivo Fanfani Camaiti di Pieve Santo Stefano. Siamo nella Valtiberina Aretina. I danni si aggirerebbero intorno ai 50.000 euro. I vandali si sono introdotti durante la notte passando da una finestra all'interno dell'istituto e hanno mandato in frantumi le lim, le lavagne interattive, le fotocopiatrici e altra strumentazione. Al momento del tentativo di intrusione in una stanza dove erano custodite le chiavi dei laboratori è scattato l'allarme che li ha messi in fuga. Sottolineo da subito la vicinanza degli enti, l'ufficio scolastico provinciale, il dottor Curto lo mi ha subito chiamato in mattinata, dal sindaco di Pieve Santo Stefano. Abbiamo avuto contatti anche con la provincia, proprio a testimonianza che l'ente, che lo Stato in tutte le sue forme è presente. L'amarezza per il gesto assolutamente da condannare non è assolutamente ammissibile né tanto meno giustificabile. L'importante è che non si facciano e lasciano passare determinati atteggiamenti, atti come espressione di un disagio giovanile o forma di contestazione, perché sono tutt'altro. Oggi i ragazzi non hanno potuto fare lezioni all'interno delle aule. Alcuni sono stati ospitati in palestra, altri hanno fatto lezioni all'aperto. Chi ha danneggiato gli strumenti ha lasciato anche tracce di sangue. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Sansepolcro. E torniamo in Valdichiana per parlare ancora di truffe. Questa volta si segnalano a Castiglion Fiorentino i danni di anziani. Un finto carabiniere informa che il proprio figlio avrebbe investito un bimbo. Per risolvere la questione basta comunque pagare a volte anche migliaia di euro. Ma se questo è il copione più diffuso ci sono anche delle variazioni, quella truffa con il finto assicuratore o altre varianti del caso. Sono di nuovo capitati episodi di questo tipo anche di recente nel nostro comune, sottolinea il primo cittadino Agnelli, e invito tutti a usare la massima accortezza. La raccomandazione è quella ovviamente di diffidare da qualsiasi richiesta di contanti ricevuta telefonicamente. E fa ancora scalpore il maxifurto avvenuto ad una ditta orafa a retina. Gli esperti di vigilanza analizzano quanto accaduto e danno consigli su come difendersi. Vediamo. C'è un forte allarme nella categoria. Voi siete esperti di sicurezza dopo questo colpo alla Jessica Jules, insomma un colpo davvero da professionisti. Quali sono i consigli che si possono dare? Sì, allora innanzitutto va detto che questo colpo è un grande salto di qualità per quello che riguarda il tipo di evento, perché vedere una cassaforte di quelle dimensioni aperta in pochi minuti fa un certo effetto. Poi abbiamo avuto anche un tentativo recente in via Baracca, dove grazie all'intervento della vigilanza che è arrivato in 5-6 minuti il colpo è andato a vuoto. Però anche lì è stato trovato furgoni sulla strada, chiodi e le bombe di acetilene e ossigeno dentro l'azienda. A livello di protezione aziendale, come è la domanda che mi avete fatto, le cose sono molto semplici. Bisogna un po' tornare negli anni bui del 2010, quando le aziende venivano assaltate in maniera molto importante, e rifare i controlli di zona, perché non si può dare troppo tempo ai malviventi, perché si è visto che in 10-11 minuti mettono a segno il colpo. La soluzione elettronica è una sola, quindi di dotarsi di apparati nebbiogeni, che sono apparati che emettono fumo in maniera molto densa, non sono nocivi per la salute e sono utilizzati nella moda da ormai 12-13 anni e già nel 2010 alcune aziende più importanti li hanno installati. Il nebbiogeni è l'unica cosa che permette al malvivente di non poter lavorare e quindi di aspettare la famosa mezz'ora che la nebbia sia lontani. Problematiche irrigue della Valdichiana se ne è parlato nella sede della Camera di Commercio di Arezzo alla presenza dell'assessore della Regione Toscana all'Agricoltura Stefania Saccardi ai rappresentanti dei comuni della Valdichiana e delle organizzazioni agricole della provincia di Arezzo e di Siena. Nel corso dell'incontro è stata esaminata la possibilità di ampliare la distribuzione irrigua nel territorio. La Valdichiana-Retina rientra nello schema di adduzione del sistema di Montedoglio che attraverso condotte primarie e laghetti di compenso al momento può rifornire gran parte delle aziende agricole operanti nei 17 comuni appartenenti all'area interprovinciale. Attraverso il potenziamento delle opere pubbliche di irrigazione collettiva già presenti sarebbe comunque possibile passare ad una migliore distribuzione delle risorse irrigue alle aziende interessate. L'assessore Stefania Saccardi così come i presidenti di EIUT e il consorzio di Bonifica hanno assicurato la massima disponibilità ad individuare le soluzioni normative e progettuali necessarie a soddisfare le esigenze di un settore così strategico per l'economia della Valdichiana quale è appunto quello agricolo. E adesso andiamo alla pagina della cultura perché l'attrice toscana Chiara Francini è salita sul parco del Petrarca con lo spettacolo Coppia aperta quasi spalancata in coppia con Alessandro Federico. Vediamo il servizio. Io pensavo che mio marito fosse malato, fosse disagiato, invece poi ho scoperto che aveva una vita sessuale attivissima, non con me ovviamente e con le altre donne e allora io gli dicevo Chiara Francini al Teatro Petrarca di Arezzo con coppia aperta quasi spalancata, reduce dalla co-conduzione di una delle serate del Festival di Sanremo in coppia con Alessandro Federico è stata la protagonista dello spettacolo di Dario Fo e Francarame con la regia di Alessandro Tedeschi. Insomma con tutti i capolavori è assolutamente sempre attuale, è sempiterno e d'altronde l'hanno scritta due geni e racconta questa sempiterna favola, questo sempiterno martirio che è l'amore quando è coppia. Si tratta di uno degli appuntamenti organizzati dall'assessorato alle pari opportunità e dalla fondazione Guido D'Arezzo in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna. Io batto il marciapiede avanti e indietro con in testa un cartello con scritto lavata, profumata, defilata, la moglie dell'ingegner Mambretti la si dà sconto comitive. Una classica commedia all'italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi figli del 68 e del mutamento della coscienza civile. Io trovo che siano nella loro fragilità due persone che provano ad essere intelligenti, a volte ci riescono, a volte non. Una descrizione con toni divertenti ma anche drammatici delle differenze tra psicologia maschile e femminile. Questa sorta di movimento contrario perché alla fine la grande forza della donna è proprio il fatto di aver acquisito consapevolezza di ciò che la fa felice, di ciò che vuole. Dall'altra parte invece il maschio si sente morire perché sente di aver perso un qualcosa che pensava fosse immutabile. E non si accorge di aver accanto invece una donna che è una donna che si evolve, che è una donna intelligente, che soffre e dalla sofferenza trae però anche la forza di poter cambiare e capire che può essere una donna anche insomma libera giustamente e lui non ce la fa. Però dal mio punto di vista raccontare la parabola discendente di un uomo è una cosa molto bella. Rinnovo delle cariche dirigenziali per il consiglio notarile di Arezzo. La consueta assemblea annuale del collegio notarile che ha coinvolto i notai di tutta la provincia ha rappresentato un'occasione per vivere un momento di confronto e programmazione a seguito dei più recenti provvedimenti legislativi ma anche per provvedere alla nomina dei rappresentanti territoriali di questa categoria professionale. Come nuovo presidente è stato eletto Carmelo Gambacorta di Sansepolcro che sarà affiancato dal segretario Andrea Martini di Arezzo e dai consiglieri Marco Benincasa di Terranova Bracciolini, Elena Bucciarelli Ducci di Arezzo, Piero Molinari di Montevarchi, Roberta Notaro di San Giovanni Valdarno e Michele Tuccari di Arezzo. E adesso un'offerta di lavoro la offre appunto Arezzo Casa che indice una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un esperto contabile amministrativo da inserire nell'area amministrativa. La scadenza per presentare le domande è prorogata fino al 4 aprile alle ore 12. L'avviso e la domanda sono reperibili sul sito di Arezzo Casa. E adesso passiamo alla pagina sportiva perché c'è la vigilia della partita dell'Arezzo con il Monte Spaccato. L'Arezzo ospita la squadra romana ultima in classifica ma in salute. indiani non vuole che cali la concentrazione. Ascoltiamo le parole dell'allenatore. La partita di Livorno si prepara da sé. Questa bisogna metterci altre motivazioni da parte nostra ma ce le metteremo. Sappiamo tutti che i tre punti domani sono importantissimi, fondamentali come quelli di Livorno. No, no, c'è, ho detto ragazzi, siamo tutti consapevoli, c'è nell'aria, c'è nell'ambiente, la città, c'è come se dopo Livorno avessimo già vinto. Invece non abbiamo vinto niente ancora. Abbiamo vinto quando sarà la matematica, se ci arriveremo saremmo bravi ad arrivarci. E questo è proprio il punto fondamentale. Livorno è stata una tappa bellissima, stra-bellissima, però, però deve finire lì. Ora c'è il Monte Spaccato domani. E ripeto, i tre punti domani sono la stessa importanza che quelli di Livorno. Sono sempre tre punti da aggiungere alla nostra Lassif. Hanno vinto a Grosseto, hanno fatto un buon parlo a Livorno. Domeni hanno riportato una partita in Ferro di San Numeria, bellissima, un tritavo. No, no, stanno bene. È stato bene. E poi, vale sempre i suoi discorsi che abbiamo fatto. Dopo il mercato di riparazione, le squadre Fondo della Siria hanno totalmente migliorato la loro rosa, la loro condizione e lo testimone della Siria. L'anno scorso, ecco, era tutto un altro discorso. L'ultime 6-7 praticamente erano, ora invece, ha detto bene, anche se è ultima, però si può salvare sempre direttamente. Figuriamoci se non lo consideriamo un avversario temibile. E adesso parliamo di Tennis Tavolo perché i titoli italiani Special Olympics di Tennis Tavolo saranno assegnati ad Arezzo. L'appuntamento è fissato per domenica quando, a partire dalle 9.30, 40 atleti di 12 team da tutta la penisola si confronteranno nelle finali nazionali che termineranno con il conferimento dei tricolori nelle diverse discipline di singolo doppio e doppio unificato. La manifestazione sarà ospitata nell'area sportiva di Piazza San Giusto, tra le palestre del Tennis Tavolo Arezzo e della scuola primaria Pio Borri, riunendo le migliori squadre emerse dai precedenti concentramenti di qualificazione. Tra i team protagonisti delle finali nazionali sarà presente anche la All-Star di Arezzo. E adesso passiamo al basket. Nuova sfida per l'Amen Sba domani che in casa incontrerà l'Agliana. Si tratta della nona giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold che vede fino ad oggi l'Amen Scuola Basket Arezzo in piena zona play-off per la promozione in Serie B. Vediamo il servizio. Sfida play-off sabato alle 19 al Palace Porta Estra, Trame, Scuola Basket ed Eddi Asfalti Agliana. Dopo il turno infrasettimanale, Iamaranto si presentano alla terza partita in sette giorni affrontando un avversario che all'andata strapazzò i ragazzi di coach evangelisti con il punteggio di 95 a 64. Agliana guidata in panchina da coach Mannelli è una squadra molto esperta che può contare su tre realizzatori oltre la doppia cifra di media. Per la difesa a retina ci sarà da limitare la fisicità degli avversari, fattore che all'andata fu determinante per far pendere la bilancia a favore dei pistoiesi. In casa a Maranto si lavora per recuperare Fornare, uscito malconcio dalla sfida con la Synergy. Per il resto è arruolabile anche il giovane Filippeschi dopo l'attacco influenzale che lo ha costretto a saldare il derby di San Giovanni. L'appuntamento per gli sportivi a Maranto è dunque per sabato alle 19 per la nona giornata di ritorno di questo campionato di Serie C Gold che vede ad oggi l'Amen Scuola Basket Arezzo in piena zona play-off per la promozione in Serie B. E questo era anche il nostro ultimo servizio del telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Grazie 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 Grazie